La Fiorentina, tre quarti centrale, c'è spazio, allarga sulla sinistra per Pasquale, posizione di cross, arriva il cross in mezzo, Andanovic e poi Salah! Gol per la Fiorentina! Si coordina per il cross Pasquale, palla in mezzo verso Ilicicce, attenzione, Salah a rete! Fiorentina in vantaggio! È incredibile ragazzi! Salah mamma mia! È incredibile, su Salah non c'era nessuno! Su Salah non c'era nessuno! Milano di rigore, c'è solo Icardi, Palazzo ti rinforza, ma dagliela, dagliela, dagliela! È lì da solo, dagliela! Icardi tutto solo dall'altra parte, dagliela! Dai, santo cielo! Termine, ultima azione per l'Inter, Juan Jesus, nove. Dai, gioca l'avanti, pallone per Guarin, ultimi cinque secondi, Guarin, Guarin in aria, Guarin! Palla che rimane sulla... non ha tirato in porto! Oh, che muoverà San Siro, straordinaria impresa dalla Fiorentina, che nove, resiste, fatte... Ma chi non ha tirato in porto? Guarin, non ha tirato in porto! Sì, sì, questa è un'occasione incredibile! Sì, sì, questa è un'occasione che non ha tirato in porto!